Sindaco, possiamo? Grazie. Sospendete l'istanza di provvedimento di abbattimento della casa della signora Filomena Vitolo. Significherebbe per lei morte certe. Quando ha chiesto questa mattina nel corso di una conferenza stampa il sindaco Paolo Alanzara, che tra l'altro ha inviato anche una lettera alla società autostrade e al prefetto per revocare questo provvedimento. Sindaco, perché questo appello? È un appello soprattutto per un fatto umano. La nostra concittadina è anziana, è non vedente, è malata, malata terminale. Per cui sradicarla da una casa dove ha vissuto per un trentennio, dove ha tutti i suoi ricordi, ma soprattutto dove riesce ancora a muoversi in maniera autonoma, significherebbe condannarla ad una morte certa. E questa è una cosa che io proprio da un punto di vista umano non mi sento di condividere, mi batterò fino allo stremo perché ciò non avvenga. Ciò non di meno come giurista e come sindaco so che le richieste dell'autostrada sono richieste più che legittime, sono richieste giuste, sono richieste che vanno formulate negli opportuni sedi e l'autostrada lo sta facendo. Noi non possiamo chiedere all'autostrada di revocare dei provvedimenti. Preciso è un fatto privatistico tra l'autostrada e la signora non ha nulla di pubblico. Però come sindaco, ma soprattutto come Paola Lanzara, io non mi sento di rimanere sorda al richiamo di dolore della signora Vittoloni. Lei ha anche chiesto un appuntamento alle società autostrade? Sì, ho chiesto alla segretaria generale che prendesse questo appuntamento. Non so se già si è attivata in tal senso, però abbiamo mandato un'omissiva all'autostrada proprio per questo. Grazie signora. Grazie a lei.